Ciao ragazzi sono Falconero e oggi sono qua con la tanto attesa recensione di Iron Man VR Ve l'avevo promesso, sono riuscito a provarlo, sono riuscito a finirlo, sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare Per arrivare qui, alla mia prima recensione di un gioco in VR Era una vita che volevo farlo e finalmente ce l'abbiamo fatta Allora, è stata un'esperienza estremamente positiva E diciamo che me l'aspettavo perché in un certo qual modo questo rappresenta un po' il punto focale dell'esperienza VR di PlayStation VR Per l'appunto, non che è probabilmente uno dei titoli più impegnativi, più popolari, più celebri Che Sony potesse in qualche modo tirar fuori in abbinamento del suo visore E devo dire che le cose sono andate bene Nonostante sulla carta potesse apparire come un'esperienza un po' limitata Nell'atto pratico, devo dire che mi sono divertito Allora, partiamo dall'inizio La storia è una storia inedita che non si lega a dei temi principali visti nel Marvel Universe Ma che appunto racconta situazioni inedite Ma con lo stesso stile Che ha sempre contraddistinto un po' la figura di Iron Man Per cui aspettatevi battutine fuori luogo Aspettatevi tanta serietà Mista però appunto a questi siparietti tipici di Tony Stark Ed è una caratteristica che speravo di ritrovare in questo gioco Che appunto si è confermata Ciò detto, la narrazione rappresenta però Diciamo un pretesto, un contorno a quella che è poi l'esperienza vera e propria Un'esperienza in cui si vestono i panni di Iron Man E il gioco tenta e in gran parte riesce a restituire quelle che sono le sensazioni Che abbiamo sempre immaginato che Tony Stark deve aver provato in quella famosa armatura L'esperienza si basa esclusivamente su delle attività di combattimento aereo In cui appunto attraverso l'uso dei Playstation Move e del visore stesso Si può combattere portando avanti appunto degli scontri a fuoco In situazioni molto molto appariscenti Una cosa importante per chiunque avesse avuto modo di provare la demo all'epoca Una novità di questa versione finale per fortuna È che il movimento di Iron Man è determinato non solo dall'uso del Playstation Move Ma anche dal visore vero e proprio Per cui orientando la testa si può in qualche modo facilitare quella che è poi il direzionamento del personaggio E questa è una cosa particolarmente utile che tende a limitare parecchio le difficoltà di orientamento e di movimento Durante i combattimenti specialmente quelli un po' più frenetici Fermo restando che bisogna sottolinearlo questo Il cablaggio stesso del Playstation Move a tratti Tende un pochino a complicare quelle che potrebbero essere attività altrimenti molto più comode Ma è un po' un elemento comune a tutti i visori di realtà virtuale in questo momento Tant'è che la mia speranza che poi si lega a Iron Man ma non solo È che una prossima generazione di visori Possa essere magari un po' più limitata in termini di tutti questi cavi intorno Non dico un visore privo di cavi Ma quantomeno alleggerire un po' tutto quello che è il contorno ludico Renderebbe le esperienze vere e proprie molto più appaganti Molto più fluide e molto meno complicate in determinati momenti Specialmente con titoli come Iron Man in cui gioco forza sei costretto a muoverti tanto E questo movimento ti esporre eventualmente a qualche fastidio di troppo Ma in linea di massima ripeto niente che non si possa superare con un po' di pratiche Con un'adeguata disposizione dei cavi prima di iniziare a giocare Questo però insomma è una cosa che tutti quelli che hanno un visore conoscono bene Non c'è bisogno certo di sottolinearlo ulteriormente Detto ciò al di là dei combattimenti caratterizzati da attività primarie Ma anche una serie di sfide secondarie L'esperienza vera e propria diciamo che si fonda principalmente sulla progressione Uno degli aspetti più belli di Iron Man VR è la sua progressione La possibilità di sbloccare nuovi potenziamenti Di rafforzare la tuta di Iron Man E soprattutto di personalizzarla nei minimi dettagli Dandogli un po' il look che abbiamo sempre sognato Andando ben oltre quello che è poi l'immagine tipica di questo supereroe La progressione è il cuore pulsante dell'esperienza L'elemento più divertente L'elemento che giustifica spesso e volentieri anche un gameplay di base abbastanza ripetitivo Perché si sa che bene o male quello fai e quello si sapeva che avresti fatto Una volta indossato il visore Ma diciamo che i combattimenti assumono maggiore importanza Maggior anche divertimento Nell'ottica del poter poi spendere quanto si è guadagnato Per avere dei potenziamenti e delle facilitazioni Se vogliamo in più durante l'esperienza Anche perché andando avanti con l'aumento della difficoltà È importante controbilanciare con dei potenziamenti adeguati Che possono in qualche modo compensare Diciamo così Sotto il punto di vista concettuale Siamo di fronte a uno dei titoli più elaborati Visti su PlayStation 1 È un gioco molto molto ricco di cose E questa grande ricchezza ovviamente ha un prezzo Da un punto di vista puramente tecnico Perché se da un lato non si può non sottolineare Il fatto che il gioco sia praticamente fisso a 30 frame al secondo Dall'altro si deve purtroppo Oggettivare il fatto che alcuni elementi di contorno Hanno delle texture a bassissima risoluzione Che stavano un pochino con quella che è il colpo d'occhio incredibile Che magari si può avere inizialmente È anche qui un elemento abbastanza comune A gran parte delle esperienze in realtà virtuale Per il momento mi auguro anche da questo punto di vista Che il passare del tempo, il passare dei mesi E l'eventuale arrivo di un nuovo visore Tanto per console quanto per PC Possa in qualche modo portare le esperienze in VR A un livello superiore Soprattutto da un punto di vista tecnico Perché se adesso riusciamo ancora a farci sconvolgere Dal livello di coinvolgimento Che deriva proprio da un visore Col tempo l'effetto wow derivante dal visore Tenderà a calare E verrà fuori un po' l'occhio critico Di tutta la community, di tutta l'utenza Verso determinati dettagli che dovranno Per forza di cose essere ottimizzati Anche per non creare un dislivello particolarmente netto Fra esperienze di nuova generazione Su PS5 per esempio E esperienze in realtà virtuali Che potrebbero avere uno stacco tecnico Piuttosto marcato Detto ciò L'esperienza dura all'incirca Sulle 10 ore Diciamo L'utente medio dovrebbe riuscire a completarla anche In meno tempo Però insomma siamo intorno alle 10 ore Per fare tutto quello che c'è da fare Per un prezzo complessivo di 39,99 Anche per il pacchettizzato Che è un prezzo Una soglia di vendita Che trovo adeguata A quello che è poi il contenuto offerto Alla qualità dell'esperienza Fermo restando appunto Che ci sono dei piccoli alti e bassi E che l'esperienza per sua stessa natura Potrebbe risultare un po' ripetitiva Agli occhi di chi non si aspettasse magari Tutti questi combattimenti Si combatte Si vive molto la figura E la persona di Iron Man E di Tony Stark Ma non ci sono attività Che vadano oltre Questo tipo di cose Per cui è bene Che lo sappiate Prima eventualmente Di rimanere delusi Perché ah manca quello No Ecco Per cui detto ciò ragazzi Per me Se dovessi dare un voto Per quanto sapete Che io i voti Li do giusto Per dare un senso numerico Alle parole che li precedono Per me sarebbe un 8 Perché mi sono veramente divertito E devo dire che Tra le esperienze fatte Su realtà virtuale Fino adesso È forse una di quelle Che mi ha colpito di più Vuoi perché Io ho un amore visciale Per Iron Man Ma insomma In linea di massima Mi aspettavo un prodotto Di questo livello Non mi aspettavo Niente di più Niente di meno O meglio Si forse Temevo che la qualità Potesse essere un po' più bassa Ma sono rimasto Piacevolmente sorpreso C'è ovviamente Da lavorare Ma più che sul gioco Sulla tecnologia Che lo ospita Se così vogliamo dire Perciò Credo che l'8 Sia assolutamente Specchio di quella Che è la qualità Dell'esperienza Proposta Detto ciò Ragazzi Io ovviamente Aspetto un parere Da parte di Chiunque lo avesse provato Da parte di chiunque Avesse avuto modo Di sperimentarlo In questi giorni Perché Sulla realtà virtuale È un tema Abbastanza nuovo Per la community Per cui sarei contento Se chi Ne ha a disposizione Uno Divisore Potesse in qualche modo Condividere le sue esperienze E arricchire un po' La discussione Detto questo Ragazzi Io vi saluto Fatemi sapere Se vorreste vedere Altri video Dedicati al mondo Dell'e realtà virtuale In qualsiasi ambito E cercheremo Di organizzarci Per accontentarvi Detto ciò Ragazzi Un abbraccio a tutti E noi ci vediamo Alla prossima E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo